Prima di tutto il movimento deve rafforzare la sua identità per riuscire a lavorare bene in una coalizione con altre forze politiche. Io credo che il movimento sia la forza politica del Movimento 5 Stelle che più può andare nella direzione della svolta ecologica, verso cui sta andando tutto il mondo. Tutta Italia ha visto quello che è successo a Catania, salutiamo i cittadini di Catania, con fenomeni atmosferici ormai che sono inediti. Noi siamo quella forza politica che può portare avanti le battaglie per la neutralità carbonica, per la piantumazione di alberi che permettono alle nostre città di respirare meglio, del verde pubblico, della rivoluzione digitale. Mi sistemi l'ilva di Taranto allora, perché quello è una ferita anche per voi, perché ci sono successe tante polemiche, io non ho il tempo di affrontarla, però i cittadini di Taranto meritano un'attenzione particolare. Io sono per lo sviluppo, per far sì che le acceglierie funzionino, ma devono funzionare non causando morte. Questo è stato l'oggetto del Giventi in questi giorni, questo argomento è stato l'oggetto del Giventi, portare al 2050 la neutralità carbonica significa che entro il 2050 non inquiniamo più come globo e ci stiamo lavorando a livello multilaterale e anche il Giventi è stato fondamentale in questa direzione. La Cina ha aumentato le emissioni carboniche di 4.4, ed è per questo che li stiamo portando su quell'obiettivo, come stiamo portando su quell'obiettivo di impegnarci a non surriscaldare il globo più di un grado e mezzo rispetto ai due. Qualcuno dirà, ma che sono questi termini? Tra un grado e mezzo e due, quindi tra mezzo grado e centigrado in più di surriscaldamento globale, ci sono 200 milioni di migranti in più verso Europa e verso Stati Uniti e ci sono 150 milioni di morti in più per inquinamento. Temo che già oggi il nostro mondo sia superiore all'aumento all'1,5, quindi il rischio è quello di arrivare addirittura al 2,7, 2,9. E dobbiamo evitarlo, ed è per questo che esistono i consegni.